Ciao ragazzi, io sono Valerio Novara, bentornati su Fage Network. Oggi vi voglio parlare di Si vive una volta sola, l'ultimo film di Carlo Verdone uscito proprio in questi giorni su Amazon Prime Video. È una commedia che ricorda un po' il filone degli ultimi film di Verdone e nel panorama attuale dei film italiani, devo dire che è un film che non mi è dispiaciuto. Nonostante, e questo ci tengo a precisarlo, che non rivedremo probabilmente più il miglior Verdone degli anni 80-90, però devo dire che nel complesso, anche attraverso la scelta della storia e del cast che ha fatto il punto di forza di questo film di Carlo Verdone, il film doveva uscire al cinema, poi alla fine per la pandemia e vari altri ritardi, si è deciso poi di farlo uscire su Amazon Prime Video ed è incluso nell'abbonamento a Prime Video. Allora, il film vede protagonisti un'equipe di quattro medici. Abbiamo Carlo Verdone che è il chirurgo, il primario di questo ospedale importante e nel cast ci sono anche Max Tortora, Anna Foglietta e Rocco Papaleo, che devo dire sono tra gli attori italiani che in questi anni, soprattutto nel cinema contemporaneo italiano, si stanno ben districando nella giungla delle nuove proposte, dei nuovi giovani attori, che possono essere Borghi, Elio Germano, ma diciamo sono attori di un'età un po' più alta di questi due che ho citato, tranne la Foglietta che comunque è giovane e che però continuano a fare, come si dice da noi, la loro porca figura, nel senso che comunque soprattutto Rocco Papaleo sta lavorando tantissimo e da protagonista secondario, se vogliamo, nei film che aveva fatto finora, in questo film prende anche una parte un po' più importante nel contesto della storia. Era stato sempre un personaggio secondario, io lo ricordo in film in cui comunque faceva sempre questo personaggio del sud e amava far ridere anche con la sua ironia particolare, con il suo dialetto. In questo film diventa parte integrante del racconto perché, diciamo, questi amici, questa equip medica, fondamentalmente poi sono degli amici, lo prendono sempre di mira a questo Amedeo, interpretato proprio da Rocco Papaleo, e gli fanno degli scherzi che, mentre vedevo il film, dicevo, padonna a me questi scherzi mi hanno sempre dato fastidio. che ne so, esempi possono essere che fanno finta di fargli credere che ci sia una donna che lo vuole portare a letto e sanno che si deve incontrare con questa donna e lui dice guarda, stasera faccio faville e lo confida a Carlo Verdone in ospedale e gli fa vedere anche un messaggio in cui questa donna gli scrive o voglia di farlo sulla lavatrice con la centrifuga al massimo. Carlo Verdone gli dice guarda, la centrifuga è vecchia, è roba vecchia che si faceva una volta e loro, gli altri tre, organizzano invece a casa sua, perché poi tra l'altro era il compleanno di questo personaggio interpretato da Papaleo, gli fanno trovare la madre, l'anziana signora, rovinandogli quindi la serata romantica con questa donna. Al di là di questo, a un certo punto, questa serie di scherzi è il classico film che, se vogliamo, a un certo punto ti tira fuori anche la famosa frase al lupo al lupo, quando uno grida che c'è un problema, grida e fa vedere che c'è un problema, finché gli altri poi non ci credono più a un certo punto, perché talmente tanti scherzi hai fatto che a una certa non ci credi nemmeno più, e il primario, Verdone, controlla delle analisi di Papaleo in cui sono tutte sballate e c'è un glioblastoma, che è un tumore, e non sa come dirglielo, perché un conto poi da medico è dire a un paziente che sta per morire, è un conto dirlo a un amico, comunque c'era un'amicizia di vecchia data, che i due portano anche avanti negli anni, non sapendo come dirglielo, ne parla con gli altri due, con Tortona e la foglietta, e decidono di portarlo in una vacanza al sud Italia, in Puglia, e di fargli fare questa vacanza, e decidono di, durante la vacanza, dirglielo prima o poi in un contesto che non sia né l'ospedale né la loro città, quindi inizialmente fanno moltissima fatica perché gli dicono che gli mancano due mesi di vita, pochi mesi di vita, comunque non c'è possibilità di salvarsi perché il tumore è molto aggressivo, lui tutto contento dice sì, andiamo a fare questa vacanza in Puglia, e tutti partono, nel frattempo poi la foglietta viene a scoprire che l'uomo che frequentava, che interpretato da Sergio Muniz, la tradiva con un'altra donna, quindi anche lei, incazzata e disperata, decide di andare a fare questa vacanza con gli amici. Arrivati in Puglia sembra tutto bello, nel senso che i quattro si godono anche le bellezze del mare della Puglia, che io adoro, e si godono anche questa vacanza, e nel frattempo però sia Verdone che Tortona cercano in qualche modo di scegliere il momento giusto, perché non ci sarebbe mai un momento giusto per dire a una persona che è malata di cancro e che sta per morire, quindi non riescono mai a trovare l'occasione per dire al loro amico che è malato e che hanno organizzato questa vacanza, che una vacanza non è, per comunicargli questa cosa e diciamo dirgli pure che gli staranno accanto, che non lo abbandoneranno in tutto l'arco della malattia. A un certo punto, senza svelarvi il finale, a un certo punto però succede che durante una cena, insomma, conoscono anche altre persone, lì in questo villaggio ci sono degli scambi di persone molto divertenti, nel senso che per passare una serata in tranquillità e in leggeressa, che in questo periodo non è affatto male, vi consiglio di guardarlo perché è un buon prodotto, non è un film di serie A, una commedia di serie A, ma l'ho trovato come un bel prodotto italiano. Insomma, una mattina qui a questo resort, a questo albergo bellissimo, tra l'altro mi piacerebbe andarlo a visitare di persona se ci si riesce quest'estate e decidono di dirglielo. Quindi diciamo dopo la scoperta Rocco Papaleo sarà inizialmente devastato e il loro peggio di lui, nel senso che poi cercano di dirgli dai troviamo delle cure, c'è una cura sperimentale in Svezia per questo tumore, lui dice no, no, lo so come vanno a finire queste cose che peggiori sempre di più e poi te spegni. Fino a che il colpo di scena finale, che non sto qui a svelarvi e che un po' l'avevo capito, nel senso guardando il film all'inizio con tutta questa serie, lui, Rocco Papaleo, inizialmente quando gli dicono del tumore non reagisce a dire no, oddio, è finita, ma pensa sia uno scherzo proprio per il fatto che per tutti quegli anni gli altri gli avevano sempre fatto scherzi, però certo uno scherzo di questo tipo sarebbe veramente molto pesante per chiunque. Quindi diciamo dopo aver scoperto questa cosa e aver accertato che poi con Verdone, che era veramente una cosa vera e non uno scherzo, succederà qualcos'altro, loro la mattina si sveglieranno, andranno a cercarlo e lui sparisce all'improvviso da questo albergo e l'uomo alla reception gli dice agli altri guardate è andato verso gli scogli e quindi loro pensano no, l'abbia fatta finita e invece poi ci sarà una sorta di colpo di scena finale. L'ho trovato molto divertente, nel senso che poi escono fuori anche la bravura, l'ho trovato Max Tortora molto molto se stesso, l'ho trovato molto se stesso, anche Anna Foglietta che avevo apprezzato in Perfetti Sconosciuti, bravissima, lei sta diventando veramente una delle migliori attrici italiane contemporanee e questo ripeto Rocco Papaleo, Carlo Verdone, non stiamo qui a ribadire la sua bravura, però è il solito Carlo Verdone, nel senso proprio un rapporto particolare con la figlia che vuole entrare in un reality show, non l'ha mai menzionato, ma vuole entrare nella casa del grande fratello e ha questo rapporto un po' particolare. Certo fa un po' troppo macchietta a volte il personaggio e i personaggi che interpreta Carlo Verdone, però devo dire che nel complesso in questo periodo c'era anche un po' bisogno di vedere qualcosa che facesse ridere, anche perché ho trovato che per esempio ai Davide di Donatello ci sono stati tantissimi film drammatici, anche tanto drammatici, fermo restando che comunque la storia è quella di un uomo al quale gli amici devono comunicare che è malato di tumore. Io vi invito a iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, a lasciare un mi piace, a lasciare un commento con la vostra opinione sul film e a seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitch, Fage Network, dove siamo in live il martedì, il giovedì e il venerdì sera. Un saluto e al prossimo video!